Una soluzione e una condanna ridotta rispetto a quella che un anno fa venne emessa dal GUP del Tribunale di Gela. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno assolto il 35enne Giovanni Simona Lario e condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione e la 29enne Saverio Di Stefano. In primo grado la pena era di cinque anni di detenzione. Per Lario difeso dall'avvocato Francesco Inia è caduta. Anche la contestazione legata alla presunta partecipazione alla tentata rapina in una tabaccheria di Corso Aldisio era ritenuto responsabile di aver fatto da palo impugnando un'arma. La difesa però nel ricorso in appello ha posto una serie di elementi che di fatto hanno messo in forte discussione la ricostruzione investigativa. Per il 35enne già in primo grado era arrivata la soluzione per un altro colpo, quello in un supermercato Fortè. La pena complessiva errogata gli era a tre anni di detenzione. In abbreviato la procura gelese aveva chiesto cinque anni e dieci mesi nel giudizio di secondo grado. Così è caduta anche l'ultima accusa per il legale di Lario nel corso delle indagini. Non emersero riscontri precisi neanche sull'effettiva presenza durante l'azione alla tabaccheria. Sono stati contestati i contenuti delle intercettazioni ma anche di dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Roberto Di Stefano. Chiagì lo fece a volto coperto e non ci sarebbero stati riscontri neppure sugli indumenti indossati. Per Lario il procedimento si chiude. L'accusa della tentata rapina nell'attività di Corso Aldisio è venuta a meno anche per Di Stefano difeso dall'avvocato Salvo Macri. Nei suoi confronti però il quadro accusatorio è ancora più consistente perché è accusato come responsabile di altre due rapine in una stazione di servizio a Caposoprano in un'altra tabaccheria. Per questi fatti i giudici della Corte d'Appello hanno confermato la decisione del GUP. La difesa attenderà le motivazioni per poi rivolgersi alla Corte di Cassazione. I colpi ricostruiti dagli inquirenti vennero messi a segno nell'arco di pochi mesi tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. In primo grado fu riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore dei titolari di due attività commerciali prese di mira. Sono parti civili rappresentati dall'avvocato Carmelo Tuccio.